Tra gli imperatori più stravaganti della storia è sicuramente Caligola. Caligola non era il suo vero nome ma un soprannome. La cosa più strana è quella di avere eletto come senatore il suo cavallo. Morirà molto giovane a causa di una congiura e un imperatore famoso per le sue estravaganze. Probabilmente aveva dei problemi mentali.